Per la rubrica un minuto per una combo supponiamo di essere ingaggiati con un cavaliere nero con un mazzo Merry, Pipino e Sam e di avere la nostra minaccia a 39, il cavaliere nero è a 35 più 3 per via dell'abilità di Pipino, quindi a 38 contro 39. Noi ci ritroviamo con un nemico che ha il costo di minaccia più basso del nostro valore di ingaggio e quindi non usufruiamo delle abilità degli Hobbit. Tuttavia possiamo giocare questa carta e riduci il costo per passare inosservati di 1 per ogni eroe Hobbit o Ramingo che controlli, ogni nemico riceve più 5 al costo di ingaggio fino alla fine del round. Abbiamo 3 eroe Hobbit e quindi la giochiamo gratuitamente avendo il matching di sfera con Pipino e il nostro cavaliere nero da 35 andrà a 40 più 3 e andrà a 43 per cui si ritroverà sopra come minaccia rispetto alla mia minaccia. Posso quindi usare una risorsa di Sam per giocare all'attacco furtivo e mettere in gioco Maggot il fattore che ha una risposta che dice dopo che Maggot il fattore è entrato in gioco infliggi un danno a un nemico impegnato con te, infliggi invece 2 danni se il costo di impegno di quel nemico è superiore alla tua minaccia. Il costo di impegno del cavaliere è 35 più 3 38 più 5 grazie a questa carta 43, la mia minaccia è 39 per cui io riesco a fare due danni al cavaliere nero e a farlo fuori prima che questo mi possa attaccare.